Donaldo Nuvola, parroco di Regina Pacis, fino al 2009 ed ex insegnante di religione al liceo classico Umberto, è stato arrestato con l'accusa di avere adescato un minore offrendogli del denaro in cambio di una prestazione sessuale. Un arresto che arriva a poco più di un anno di distanza da un'altra condanna nei confronti del parroco risalente al gennaio 2012 per il medesimo reato. In quell'occasione Nuvola era stato condannato per avere offerto soldi a un 17enne e quindi per il reato di tentativo di induzione alla prostituzione minorile allo stesso fine, ma non era stato arrestato per la sospensione della pena. All'epoca la denuncia era scattata in seguito al rifiuto del giovane di prestarsi alla proposta religiosa. Questa volta invece le manette sono scattate nel corso delle indagini svolte dal nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri, Piazza Verdi, che stavano seguendo la pista della prostituzione minorile per tentare di far luce sull'omicidio di Massimo Pandolfo, avvenuto al Teatro del Sole lo scorso 24 aprile. Le indagini sul delitto maturate in ambienti omosessuali commesso da un 16enne hanno portato a scoprire e documentare l'esistenza di un giro di prostituzione omosessuale minorile che vedeva tra i suoi più assidui clienti proprio il sacerdote, peraltro già condannato per molestia e disturbo della persona, per avere tentato ripetuti approcci sessuali nei confronti di un giovane 17enne e per atti osceni, per essere stato trovato a bordo della propria auto in atteggiamenti intimi con un altro uomo. L'attenzione sul sacerdote fu posta sin dalle prime battute dell'indagine quando si accertò attraverso l'analisi dei tabulati dell'omicida un costante scambio di messaggi e telefonate tra i due, scambio che avvenne anche nelle ore immediatamente successive alla morte di Pandolfo. Secondo quanto accertato a seguito dei rapporti, non mancava mai il pagamento che avveniva sotto forma di piccole dazioni in denaro contante, 20 o 30 euro, ricariche telefoniche oppure l'acquisto di cibo e bevande. Il provvedimento di ferme messo dalla procura di Palermo porta la firma dei pubblici ministeri Calogero Ferrara e Diana Russo, coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Scalia. Aldo Nuvola è stato così prelevato dalle forze dell'ordine e condotto al carcere Paierelli. Le prime accuse al prete risalenti a quattro anni fa avevano diviso la comunità che frequentava la parrocchia di Regina Pacis in piazza 4 Novembre nel centralissimo quartiere Libertà a Palermo. Adesso per il religioso si aggrava il peso delle accuse per la reiterazione del reato. Grazie. 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 Grazie.